Questo video è nato da una collaborazione con Nicola Selvaggio, un ragazzo che vi spiega e vi racconta la filosofia contenuta nei film e nei cartoni animati. Trovate il link del suo canale in descrizione, mi raccomando, guardate i suoi video e il buon Nicola ci dirà la sua sul film alla fine di questo video. Aristotele parlava di unità di luogo, tempo e azione come elementi necessari e sufficienti per dare vita a una buona storia. In altre parole, se la trama è di per sé accattivante e ben costruita, può tranquillamente svolgersi in un solo luogo, nel giro di poco tempo, con pochi personaggi. Aristotele probabilmente non poteva concepire l'idea fantascientifica del viaggio nel tempo, ma Nacio Vigalondo, regista e sceneggiatore spagnolo, ha utilizzato questo meccanismo narrativo rispettando in modo molto libero le tre unità aristoteliche. Una sola ambientazione, solamente quattro attori, una storia unica senza sottotrame. Time Crimes, los cronocrimenes in originale, i cronocrimini, è uno di quei film che puoi scoprire per caso in televisione una domenica pomeriggio, e che cattura l'attenzione perché senti che ha qualcosa da raccontare. Time Crimes, uscito nel 2007, è un film low budget e non ha avuto un grandissimo successo commerciale, ma nel gruppo dei film, incentrati sui viaggi nel tempo e sui paradossi temporali, è davvero un gioiellino, un piccolo cult imprescindibile. Vigalondo ci propone una storia di per sé lineare, semplice e perfettamente plausibile con quello che ci si aspetterebbe da un uomo comune che si imbatte in una macchina del tempo. Il viaggio nel tempo è un tema comune della fantascienza, ma anche del fantastico, ed è un meccanismo narrativo interpretato in modi diversi, fondamentalmente tre. Primo, il viaggio nel tempo non modifica gli eventi, tutt'al più lo stesso viaggio nel tempo è causa di quegli eventi. Lo vediamo per esempio in Harry Potter e il Pigioniero di Azkaban. Secondo, il viaggio nel tempo modifica gli eventi, modificare i fatti del passato cambia il futuro, creando un presente diverso, è quello che vediamo per esempio in Ritorno al Futuro. Terzo, il viaggio nel tempo creerà linee temporali alternative indipendenti le une delle altre, lo vediamo per esempio in Dragon Ball Z. Alla fine del video diremo qualcosina in più, ma ora... Vediamoci sto film. Su quale dei tre presupposti si baserà Time Crimes? La trama è fatta d'incastro, ma andiamo con ordine raccontando le azioni dei tre Hector generati dal paradosso temporale. Hector è il protagonista del film. Ma attenzione perché tutto il video contiene gli SPOILER! Siamo in Spagna, è sabato 16 settembre 2006. Hector è un tranquillo uomo di mezza età che si è appena trasferito in una casa di campagna con la moglie Clara. Tornando da delle compiere in città, riceve sul telefono una strana chiamata. Chissà dall'altra parte della cornetta, ansima e fa versi strani, per poi riattaccare senza spiegazioni. La chiamata in questione è solo il primo elemento che ha a che fare con il paradosso temporale del film. E nel corso della storia ci saranno tantissimi dettagli che troveranno senso soltanto alla fine della pellicola. È ridondante infatti mostrarveli uno per uno. Ciò che è importante dire è che potenzialmente si possono inserire quanti più dettagli si vuole, inizialmente inspiegabili, e che poi si scopriranno accadere a causa di azioni dei nostri alter ego che stanno viaggiando nel tempo. Per esempio, sentiamo una moto rombare in lontananza, e scopriremo soltanto alla fine che quella moto era guidata dalla nostra copia tornata indietro nel tempo, nel nostro presente, per un motivo che prenderà lentamente forma. Torniamo alla trama. Hector, con un binocolo, si mette ad osservare per noia il bosco, e nota per caso una ragazza che si sta spogliando in mezzo agli alberi. Approfittando della moglie che se ne va in città per degli acquisti, indossando un cappotto rosso, Hector, un po' intimorito ma incuriosito, si incammina nel bosco e trova la ragazza apparentemente addormentata. All'improvviso viene pugnalato con delle forbici da un terrificante individuo mascherato con bende insanguinate. Hector riesce a fuggire e scopre anche che l'uomo bendato sa di essere da lui spiato. Questa cosa lo terrorizza e nell'ansia della fuga entra in un edificio adibito a centro di ricerca. Trova uno strano foglio e si fascia la ferita al braccio con delle bende. Hector trova un walkie-talkie e si mette in contatto con uno scienziato che lo invita a raggiungerlo in una cupola in cima alla collina lì vicino. Il nostro Hector riesce ad arrivare sano e salvo e fa la conoscenza dell'anonimo scienziato, interpretato tra l'altro dallo stesso regista Vigalondo. Scoprendo che l'uomo bendato sta pedinando a Hector, lo scienziato lo invita a nascondersi in una specie di grande vasca piena di fili, poiché il tizio bendato probabilmente vuole ucciderlo. Il nostro protagonista accetta, ma è una pessima idea. Hector è entrato a sua insaputa in una macchina del tempo e viene immediatamente spedito nel passato, esattamente a un'ora prima. Hector riemerge frastornato dalla vasca e si allontana tra lo stupore del giovane scienziato che sembra non riconoscere il tizio appena emerso dalla macchina. È di nuovo giorno, quando fino a un minuto fa era notte. La verità viene presto a galla. Hector scorge col binocolo il se stesso di un'ora prima, il suo alter ego che sta facendo le stesse identiche cose che ha fatto Hector nel passato, secondo la sua linea temporale. Lo scienziato, dopo aver capito che quel tizio è venuto dal futuro, costringe Hector a non recarsi per nessun motivo a casa sua. Hector, infatti, in un certo senso, è già a casa sua. Le conseguenze che deriverebbero dall'incontro consapevole di una stessa entità vivente con la copia temporale di se stessa sono sconosciute e potenzialmente pericolose per l'intero continuum spazio-temporale. Lo scienziato non conosce fino in fondo i pericoli e le implicazioni del viaggio nel tempo. Sta infatti costruendo un prototipo di una macchina del tempo e consiglia al nostro protagonista, che è diventato ormai Hector 2, di aspettare un'ora in modo che tutto torni alla normalità, lasciando che gli eventi facciano il loro naturale corso. Ok, fin qua ci siamo. L'idea dello scienziato, infatti, è quella di aspettare e non interferire in nessun modo con gli eventi, per l'amor di Dio. Se Hector 2 è venuto dal futuro, arriverà spontaneamente un motivo per cui l'altro Hector, Hector 1, finirà per entrare nella vasca e tornare così indietro nel tempo. Lo scienziato spiega il problema disegnando su un foglio, ed ecco spiegata l'origine del foglio. Hector 2, quindi, si trova in una linea temporale che non gli appartiene e deve aspettare che la sua copia scompaia nella vasca, lasciandogli in un certo senso campo libero, come se fosse una sorta di giostra che non ammette più di un Hector, ed è necessario che a turni un Hector dia il cambio all'altro. In questo caso, allora, Hector 2 deve assolutamente aspettare che Hector 1 viaggini al tempo e poi tornerà tutto come prima, senza conseguenze. Interessante anche la metafora dello scienziato. È come se Hector 2 si stesse guardando allo specchio, solo che lo specchio sta riflettendo, con un ritardo, la realtà di un'ora prima. Spettacolo. E ora una piccola digressione non richiesta. Mi lascia sempre senza fiato un affascinante fatto astronomico. La luce viaggia nello spazio alla velocità di circa 300.000 km al secondo. La luce, cioè, ci permette di vedere tutta la realtà che ci circonda. Un raggio di luce impiega circa 8 minuti per andare dal Sole allo schermo che è stato usando per guardare questo video. Lo stesso vale per la luce delle stelle che vediamo di notte. Ogni stella emette una luce che impiega, cioè, un certo tempo per arrivare a colpire i nostri occhi. Se in questo istante una stella esplodesse e la sua luce impiegasse 10 anni per raggiungerci, noi dalla Terra vedremo la stella così com'era 10 anni prima. In altre parole, quella stella, già scomparsa nell'infinito e buio spazio, sarà per noi, in un certo senso, ancora viva per 10 anni, perché la sua luce impiega questo tempo per raggiungerci. E pensate anche questo. Se un alieno, in questo istante, ci stesse osservando con un telescopio talmente potente da riuscire a vedere la superficie della Terra, e questo alieno si trovasse a 6 milioni di anni luce da noi, sì, vedrebbe aggirarsi per l'Africa i nostri antenati scimmieschi. Non ci sarebbe, cioè, nessuna traccia di esseri umani. Non ancora. In altre parole, noi ci siamo e siamo qui, vivi, ma per un altro occhio, per un altro luogo dell'universo, noi non siamo ancora comparsi. La Terra del nostro passato è la Terra del presente per un altro ipotetico essere. Scusate questa lunga digressione, ma torniamo alla trama di Time Crimes. Lo scienziato, dunque, consiglia semplicemente di aspettare e di non fare nulla. Per piacere Hector 2, non fare nulla. Purtroppo, Hector non ci sta e fugge in macchina. Durante la corsa, però, viene tamponato violentemente da un furgone rosso e ha un incidente. Viene soccorso da una ragazza. Ed è la stessa ragazza che si spogliava nel bosco un'ora prima. Hector, sanguinante, si fascia la testa per medicarsi e, con enorme sorpresa, diventa proprio il tizio bendato, armato di forbici, che gli dava la caccia. In un certo senso, Hector 2, pugnalandolo, ha spinto Hector 1 a diventare lui stesso. E qui inizia il paradosso temporale del film. A questo punto, lo spettatore può intuire che tutti gli eventi stanno svolgendosi necessariamente secondo una sola trama fissa e immutabile. anche contro le volontà dei personaggi. Hector, in una terrificante commistione di spontaneità e di preparazione, tenta di replicare le stesse cose che ha visto quando era Hector 1. Fa spogliare la ragazza nel bosco, vecchio marpione. Tutto questo per spingere Hector 1 ad entrare nella macchina del tempo, proprio come ha fatto lui, ed evitare così il paradosso temporale. La cosa sconcertante è che, anche nelle azioni più spontanee ed istintive, scopriamo che è tutto già scritto, che il libero arbitrio dei pensieri e dei gesti semplicemente non esiste. Perché tutto sta andando come è già andato. C'è una pesante e soffocante aura di determinismo assoluto. È tutto già successo, è tutto già deciso, madonna. Nulla cambierà le cose. Tutto va a secondi piani. Hector 2 pugnala con le forbici Hector 1 e la catena degli eventi già visti è ormai innescata. Rivediamo le stesse cose, cioè da punti di vista diversi. Ma c'è un imprevisto. Dopo aver spaventato Hector 1, Hector 2 sente la ragazza urlare e la insegue fin sul tetto di casa sua, dove la ragazza aveva cercato di nascondersi. Ma a causa di un incidente, Hector 2 fa precipitare la ragazza dal tetto, uccidendola. Esaminando il corpo, però, si accorge che non è la ragazza, ma è sua moglie, tornata dalle compere. Distrutto e sconvolto, Hector 2 vuole cambiare il corso degli eventi e torna dallo scienziato per riviaggiare nel tempo ed evitare la morte accidentale della moglie. Anche se sa che la storia è immutabile, cerca disperatamente di forzare questa legge fisica. Scopriamo anche che è stato Hector 2 a dire allo scienziato di fare entrare Hector 1 nella vasca ad ogni costo. Ecco spiegato perché lo scienziato, senza alcuna esitazione, aveva proposto subito, con una certa assurdità, ad Hector 1 di nascondersi nella vasca. Lo scienziato, in ogni caso, si rifiuta di aiutare Hector 2 perché, a sorpresa, rivela che un altro Hector, Hector 3, lo aveva minacciato, dicendogli di non far più usare la macchina del tempo a nessuno. Ma ormai è troppo tardi, cari miei, tutto è già scritto e deciso. Hector 2 riesce a convincere lo scienziato e torna, ancora una volta, indietro nel tempo, diventando Hector 3. Hector 3 ha un solo obiettivo adesso, salvare sua moglie. Hector 3 emerge dalla vasca un minuto prima di Hector 1. Senza entrare nei dettagli specifici che ogni film sui viaggi nel tempo deve tenere in considerazione, come una macchina che alla fine si scopre essere guidata da Hector 3 o che il furgone rosso che aveva tamponato Hector 2 era in realtà guidato proprio da Hector 3, e così via, alla fine scopriamo la verità. Hector 3 corre a casa sua e trova la moglie. Per salvarla la rinchiude in un armadio. Hector così capisce definitivamente che la storia non può essere cambiata. Scopre che la ragazza morta in realtà non era sua moglie, ma proprio la ragazza del bosco, fatta in modo da assomigliare alla moglie di Hector 3 e spingere così Hector 2 a riviaggiare nel tempo. Tutti gli eventi si incastrano alla perfezione in maniera quasi soffocante e alla fine Hector 3, l'Hector finale e l'ultimo Hector, riesce a rimanere solo nella sua linea temporale, con la moglie sana e salva, al prezzo però della morte di una ragazza innocente e purtroppo impossibile da salvare. Ho volutamente omesso ogni dettaglio perché il film mette insieme tutto alla perfezione e quindi anche un invito a guardarlo. La morte della ragazza è quindi innescata da un paradosso temporale, ogni cosa è causa retroattiva di un'altra e anche se Hector 3 avesse provato a salvarla non ci sarebbe riuscito. Se la ragazza fosse sopravvissuta, l'avrebbe già vista viva ancora prima di viaggiare nel tempo. Purtroppo però l'aveva vista morta e quell'evento non si poteva cambiare. Regà, sto film mi è piaciuto tantissimo. Il viaggio nel tempo è teoricamente possibile secondo la relatività generale e le storie sui paradossi temporali, come abbiamo visto, adottano diversi impianti concettuali. Time Crimes è un capolavoro di viaggi nel tempo basati sul principio di autoconsistenza di Novikov. Il passato non si può cambiare, la linea temporale è immutabile. Questa formula proposta dal fisico russo Igor Novikov nei anni Ottanta si propone come una soluzione definitiva al problema dei viaggi nel tempo. Ne ho parlato anche nel video dedicato alla storia di TimeSplitters, se avete voglia recuperatelo e trovate anche la spiegazione del paradosso del compositore. Vi lascio il link in descrizione, se vi va. Il principio di autoconsistenza si basa su un assunto semplice ma fondamentale. Il passato è immutabile. Ciò che è successo non può essere cambiato. Viaggiare nel tempo può tutt'al più essere indifferente allo svolgimento degli eventi oppure, come viene mostrato nel film, contribuire in maniera decisiva proprio alla realizzazione di quei fatti che si volevano evitare. Un esperimento mentale, inventato dal sottoscritto, può aiutare a capire il principio di autoconsistenza. Un tizio assiste al sanguinoso investimento di un gatto da parte di una macchina che correva a tutta velocità. Decide così di viaggiare nel passato per fare segno alla macchina di fermarsi quando starà per investire il gatto, ma per arrivare in tempo sul luogo dell'uccisione, il tizio guida ad alta velocità, finendo proprio per investire quel gatto che intendeva salvare, scoprendo che l'assassino altri non era che lui stesso. Che sfigato. In questo caso, viaggiare nel tempo ha proprio permesso l'accadere di quell'evento. No, ragazzi, queste cose sono troppo belle. Time Crimes ci mostra una sorta di morale sporca, la sensazione di un loop inevitabile e schiacciante, intuibile sin da quando viene mostrata la macchina del tempo. Hector è un uomo come tanti che viene trascinato in una serie soffocante di eventi, ognuno dei quali, a posteriori, dà un senso alla storia finale. Un finale che è già scritto sin dall'inizio. Il film, infatti, secondo me, riesce a non annoiare nonostante la replica e la riproposizione delle stesse scene. Tutto accade in circa un'ora, a cavallo tra il tramonto e la notte, per ben tre volte, corrispondente ai diversi punti di vista dei tre Hector. Disseminando qua e là sottili riferimenti, segnali, indizi e allusioni, con lo scorrere del film tutte le tracce acquistano un significato e fanno quasi annuire lo spettatore. Per esempio, quando Hector 2 sente la ragazza urlare e inizia a inseguirla come un pazzo, nessuno si chiede perché abbia urlato. Magari è caduta, forse era solo spaventata, e invece ha urlato proprio perché si è ritrovata davanti. Hector 3. Fatto che scopriremo soltanto più avanti. Nulla è lasciato al caso. Time Crimes propone un circolo temporale che prende le sembianze di una gabbia, perché affinché il protagonista possa tornare ad essere il sole unico Hector senza pericolosi alter ego in giro, deve sottostare alle vicende di cui è involontariamente protagonista e soggetto purtroppo passivo. Suo malgrado inizia a compiere reazioni più abberranti pur di salvarsi la pelle. Anche quando una libera scelta sembra eludere la gabbia del tempo, credendo di ingannarla, subito si viene smentiti. Il principio di autoconsistenza è inaggirabile e Hector si è trovato contro voglia ad entrare nel circolo temporale e ad uscirne, portando però via con sé la vita di una povera ragazza innocente. Ragazza, tra l'altro, che dà spessore drammatico alla storia, essendo il capo espiatorio del film. Senza di lei, senza vittime o conseguenze gravi, l'uomo avrebbe potuto dimenticarsi presto di questa storia e invece la sua coscienza è stata segnata per sempre. Time Crimes marcha in Hector nello spettatore una sola parola. Ineluttabilità. Ma di questo ve ne parla ora Nicola e lascio la parola a lui. Vai Nicola. Buonasera signori e bentornati dal vostro Nicola Selvaggio. Oggi sul canale di Fradival che mi ha fatto una proposta veramente veramente interessante. L'indifferenza del corso degli eventi. Indipendentemente dai viaggi nel tempo, indipendentemente dal potere umano, le cose che devono accadere, accadono. Questo è uno dei temi più affascinanti e più discussi. Il problema è che non esiste una controprova. La vita è una realtà molto particolare e il regno della singolarità e anche le sue regolarità non hanno una validità universale. Pensate, per quanto ne sappiamo noi, solo una piccola porzione dell'universo ospita una vita. E ciò non significa che non ha senso studiarla e soprattutto studiarla in relazione al resto dell'universo fisico. Come è definito un essere vivente? Come è un'entità fisica limitata nel tempo e nello spazio, costituita di materia organizzata secondo specifici criteri definiti e controllati dal suo patrimonio genetico o genoma. Come è chiaro, la parola chiave è organizzazione. Gli organismi viventi mostrano una particolare forma di organizzazione della materia, imperniata primariamente su quella straordinaria struttura biologica che è la cellula. Ma come è organizzata la materia? è organizzata anche la vita. E come è organizzata la vita? È organizzato il destino. È facile dire pezzeroleali del destino, come disse Massimo Ranieri. È facile alzarsi e inneggiare contro la sorte avversa, ma non ha neanche tanto senso farlo. Il mio manga preferito, ovviamente, nella sua versione anime recita l'uomo si illude di essere il padrone della propria vita, ma non lo è. L'uomo segue una strada. Sì, Nicola, è tutto interessantissimo, ma cosa c'entra con Time Crimes? Nell'ambito di qualsiasi riflessione sul tempo, il mondo della vita è destinato a giocare un ruolo di primo piano. Perché? E soprattutto attraverso l'osservazione dei fenomeni biologici che possiamo renderci conto del passare del tempo. E perché? La vita si mantiene e si propaga grazie a una rigida programmazione e una meticolosa gestione del tempo. Nella sua essenza, insomma, la vita scandisce il tempo, ma contemporaneamente lo cattura e quasi lo assoggetta. La vita e il tempo sono legate a filo doppio e sono concatenate, sono destinate ad andare avanti insieme. Nessuno può riportare indietro l'uno senza subire il contraccolpo dell'altro. Time Crimes ci insegna questo. E per fare un crossover con Topolino, che ormai le faccio sempre, sulla carta Zapotec e Marlin mandano indietro Topolino e Pippo come testimoni. Poi ovviamente loro infigiano e influiscono sulla storia, ma quello fa più parte del canone disneyano. Ma la cosa bella è che loro, da veri scienziati, lavorano da osservatori esterni. È stato per me un onore collaborare con Fradival e vi invito a iscrivervi al suo canale. Un abbraccio dal vostro Nicola Selvaggio. Grazie mille Nicola Selvaggio, grazie a chiunque abbia guardato questo video. Se vi è piaciuto o anche solo incuriosito vi invito come sempre a lasciare un like. E noi ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi al mio canale e a quello di Nicola.